I ticket sanitari così non vanno bene, il conteggio penalizza i pazienti e il sistema del calcolo, ora basato sul reddito familiare, deve essere modificato. Lo chiede insieme Bologna che ha già sollevato il caso nel quartiere Savena e ora punta a portare il tema lunedì in Consiglio Comunale. Attualmente il sistema in vigore è basato sul reddito familiare. Per la regione un nucleo familiare composto da una persona con un determinato reddito equivale come ricchezza a un nucleo familiare composto da 2, 3, 4, 5, 10 persone. Questo è evidentemente un sistema totalmente inico e peraltro anche totalmente inefficiente. A dirlo non siamo solo noi di insieme Bologna ma è la stessa assemblea legislativa che nel gennaio 2016 ha approvato con i voti della maggioranza del partito democratico, quindi della maggioranza di governo, una risoluzione la 901 che dice testualmente che questo sistema penalizza ancora molte famiglie e in particolare quelle con più familiari a carico. Sistemare i conteggi ma pensare anche ai tempi di attesa per le visite specialistiche o per i servizi del pronto soccorso. Se qualcuno ha avuto sua sfortuna di dover andare al pronto soccorso si è reso conto dei tempi biblici che devono sopportare per avere una visita. Se devono richiedere delle visite specialistiche i tempi e i costi sono esorbitanti. Quindi oltre ad avere queste effettivamente il nostro sistema ha delle eccellenze però ci sono delle inefficienze nella gestione proprio del sistema sanitario regionale. L'interlocutore per sciogliere questi nodi a Bologna ancora non c'è mancando il nuovo assessore alla sanità. Aspettiamo anche come Comune di Bologna la nomina del nuovo assessore alla sanità che speriamo che sia una persona competente del settore. Non uno che magari fino a ieri costruiva caso e faceva macchine ma una persona con cui si può dialogare e capire subito i problemi su cui intervenire. Il pronto soccorso, le liste di attesa per le visite specialistiche sono ancora all'ordine del giorno e penso che il Comune di Bologna debba fare pressione sulla regione per risolvere questi problemi.